Ma è una partita difficile, una partita difficile perché il Torino ha fatto un campionato molto positivo la scorsa stagione. Ce la siamo giocata perché alla fine siamo arrivati a pari punti e per scontro diretto sono arrivati davanti loro. Quindi abbiamo fatto un campionato a entrambi di buon livello e il Torino è ripartito da quello con la stessa idea di calcio, con lo stesso sistema di gioco. Ha cambiato qualche interprete ma credo che gli inserimenti siano stati molto all'altezza, hanno messo dentro giocatori forti che hanno alzato il livello del Torino e infatti i risultati parlano chiaro. Però questo è quello che è il Torino. Poi ci siamo noi, sappiamo che a Torino l'anno scorso è stato molto difficile, sappiamo che l'idea di gioco che ha il Torino può metterci in difficoltà, però abbiamo lavorato per cercare di mettere in difficoltà il Torino perché il nostro obiettivo è andare là, far bene per ottenere un risultato positivo. Come si riparte? Come sempre, dopo una partita si cerca di mettere da parte la partita precedente prendendo pro e contro, sicuramente ci sono stati dei pro nel primo tempo, dei contro dopo l'episodio sfortunato e negativo che ha condizionato l'esito finale della partita e ci si allena per preparare la successiva perché c'è sempre una riprova successiva e per noi la riprova successiva è quella di domani. Ma sì, diciamo che è un peccato non avere tutti gli effettivi a disposizione, credo che sia un problema non solo del Sassuolo, di tutte le squadre, perché quando poi inizia la stagione si giocano le partite ravvicinate, turni infrasettimanali come è successo a noi e come succede alle squadre magari che giocano anche le coppe, ci sta di non avere tutti a disposizione. Purtroppo abbiamo tante defezioni nel reparto avanzato, però ho possibilità di scegliere e quindi questo vuol dire che i giocatori ne abbiamo. Sì, Pedro è disponibile dalla prima di campionata, è normale che sarebbe utile per lui mettere minuti nelle gambe, ad oggi non c'è ancora riuscito perché nelle scelte non è stato preso in considerazione, ma diciamo che io l'ho preso in considerazione al primo giorno che era entrato perché Pedro è un giocatore importante di questa squadra e tra poco lo sarà anche in campo. Già la partita coludinese è venuta in panchina con un piccolo acciacco e quindi sapevo che lui aveva dato garanzie di disponibilità al 100%, ma non era al 100%. Questa settimana sicuramente l'ha portata a una condizione più ottimale rispetto alla precedente e ora Pedro è disponibile al 100%. Purtroppo Erlich non ci sarà come il resto dei giocatori indisponibili nella partita precedente. Come ho detto già altre volte, per parlare di dati bisognerebbe prendere una parte del campionato più significativa, abbiamo giocato poche partite, sicuramente Martin ha acquisito una grande esperienza nel percorso da quando è andato via da Sassuola a quando è tornato. Ha caratteristiche diverse dagli altri difensori e è un giocatore importante, lo ha dimostrato nelle partite in cui c'è stato, però abbiamo anche altri difensori importanti e quindi diciamo che ci sono più titolari nel reparto difensivo e Martin è uno di questi. Io sono abbastanza soddisfatto perché non possiamo dimenticarci da dove siamo partiti. Abbiamo avuto delle defezioni, questo non lo dico per trovare una scusa, ma ora è presto per tirare una riga, come ho già detto, quindi fare analisi su quello che abbiamo fatto mi sembra molto precoce. È normale che un allenatore faccia delle analisi ma le fa quotidiane e non le fa in base ai risultati, le fa in base a quello che vede sapendo da dove si è partiti. Io so da dove siamo partiti, forse qualcuno magari non se lo ricorda, però dobbiamo solo star tranquilli, sereni, concentrati sulla partita di domani e mettere tutto noi stessi nella partita di domani sapendo che se ci fossero stati anche tutti sarebbe stata comunque la stessa partita difficile da giocare con delle difficoltà, ma sicuramente metteremo in difficoltà il Torino, di questo ne sono sicuro e su questo dobbiamo concentrarci, poi tutto il resto non mi interessa. Io ho detto che è un altro Sassuolo, poi se vogliamo fare dei paragoni bisogna aspettare un pochino di tempo, io nella testa ho un'idea su quello che possiamo diventare. È normale che dobbiamo essere tutti, dobbiamo dar continuità più possibile, dobbiamo ottenere risultati perché i risultati danno autostima e consapevolezza, perché siamo comunque una squadra giovane, una squadra poco esperta per la Serie A in alcuni effettivi e quindi secondo me possiamo emulare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e forse anche migliorarlo. Ad oggi dobbiamo lavorare per poter pensare a quello che ho detto, perché oggi non siamo quelli che hanno finito la scorsa stagione il campionato, non siamo quelli, questa ora potremmo diventare anche migliori, quello sì, però ci vuole tempo, lavoro, poche chiacchiere e pochi atteggiamenti negativi.